Ciao Ludovico! Tu mi vedi, io no, ma insomma l'affetto è quello di sempre. Io e Ludo ci conosciamo da tanto, io facevo il secondo anno di Accademia e Ludovico entrava, quindi eravamo a un corso l'uno dall'altro e abbiamo vissuto quegli anni all'Accademia Silvio D'Amico in gran parte insieme. E beh Ludovico era una vera attrazione a scuola perché oltre ad essere insomma simpatico e buono e piacevole come immaginate tutti e se non lo sapete proprio per via diretta era un fenomeno fisico straordinario perché insomma Ludovico è uno che ti fa i salti mortali da fermo, si fa i flick-flack, quelle cose che a noi insomma proprio o non ci riuscivano o ci costavano dolori, fatiche, senza mai arrivare a farli con l'immediatezza, la facilità con cui li faceva lui. Quindi era divertente quando nei camerini e gli spogliatoi gli si chiedeva di farci qualche cosa di stupefacente di questo tipo e lui tac tac ce lo faceva così e sembrava sempre di essere o in una ripresa di una gara di ginnastica o in quella scena dei Blues Brothers dove l'insospettabile Berusci si lancia in multipli flick-flack all'indietro. Ecco Ludovico è molto differente da Berusci ovviamente, però era proprio una molla, una molla e un'esplosione di energia. Il ricordo di Ludo a scuola è veramente bello, è piacevolissimo. Spero di vederti presto senza uno schermo che ci divida e ti mando un abbraccio fortissimo.